Francesco Guccini, cantautore, famoso, di grande successo, un successo che sta raccogliendo soprattutto fra il pubblico dei giovani. La definizione di cantautore, Guccini, o anche di cantastorie, l'abbiamo sentita, la ritieni restrittiva? No, cantastorie magari no, forse è restrittiva o bisognerebbe parlare di quella di cantautore perché chiunque fa una canzone e se la canta diventa automaticamente cantautore. C'è modo e modo di fare il cantautore, ecco, semplicemente, di questo bisognerebbe parlare a lungo. Fino a qualche anno fa Guccini diceva adesso faccio il cantautore, poi chissà, ha continuato. Ti ha spinto a continuare il successo oppure senti di svolgere addirittura, usiamo una parola grossa, una missione interpretando ansie, proteste, aspirazioni? No, missione per l'amor di Dio non è questo, è un lavoro come tanti, anche questo. Sto facendo anche il chissà, in questo senso, che faccio il cantautore ogni tanto, insomma. I miei concerti sono 30-40 all'anno, i miei dischi sono uno ogni tre anni, quindi fare il cantautore vi porta via poco tempo, o relativamente poco tempo, per il resto faccio molte altre cose. Ecco, quali sono queste molte altre cose, o almeno alcune? Sappiamo che hai anche un passato giornalistico, che hai una cultura, le tue spalle. Il passato è anche un po' un presente perché collaboro a qualche rivista italiana, anche questo, sono più che altro un hobbista in tutto, insomma, quindi mi piace fare le cose che mi piace fare in certi momenti. Ecco, le tue canzoni ci pare trovano l'ispirazione dalla vita, dalle sue vicende, soprattutto dalle più drammatiche. Ti senti di collocarti o di essere collocato, la domanda è impegnativa, anche socialmente? Beh, sì, in un certo senso sì, perché certe canzoni parlano di realtà e non parlano di... non usano parole tanto per riempire dei versi, insomma, quindi si è necessariamente collocati in un certo modo, in una certa società e in un certo momento, ecco. A proposito di parole, di testi, di poesia, possiamo usarla questa parola, i testi delle tue canzoni possono essere anche letti, sono raccolti, sì da essere letti? No, e non accetto neanche il fatto della poesia, perché la poesia è una cosa diversa, è diversa, le canzoni sono canzoni, cioè sono nate per essere cantate, soprattutto, quindi devono avere un accompagnamento importante o povero che sia, ma soprattutto servono per essere cantate, un'altra forma, insomma, un'altra forma di espressione. Quello del cantautore è un fenomeno destinato a resistere oppure cambiassero i termini della vita attuale, cambierebbe anche il modo di interpretarla? In altre parole, fra trent'anni, quarant'anni, cinquant'anni, presumi che si ascolteranno ancora le tue canzoni e quelle di altri cantautori di valore con lo stesso interesse con cui si ascoltano oggi? I primi cantautori in Italia sono usciti in un certo modo, sono alla fine degli anni cinquanta, non erano i primi, perché se guardiamo la storia della canzone italiana, uno spadaro per esempio, era in un certo senso un cantautore, se andiamo indietro, facciamo un nome grosso o mero, era in un certo senso un cantautore, quindi è una delle più antiche tradizioni del mondo, quella di cantare le proprie canzoni, una tradizione tanto antica che la paragonerei è un altro mestiere che non voglio dire, che si può facilmente intuire. Ecco, dopo questo discorso forse troppo ampio per essere approfondito, veniamo al Francesco Guccini, cantautore, non direi ultima maniera, perché non penso ci siano delle maniere, ma quello dell'album più recente Metropolis, che mi pare si sia concentrato sul cantare le città, Bisanzio, Venezia, Bologna, Milano, è stata soltanto la cronaca a suggerirtelo? No, la città come posto in cui l'uomo vive, quindi non solo le città, ci sono queste quattro città, ma ci sono anche degli altri spazi, Blackout per esempio è un paese, Antenor è un paese, insomma... Blackout è il paese dove sei nato, se non erro... non proprio nato, ma dove ho abitato e abito molto spesso anche adesso. Quindi città intese come spazi, dimensioni in cui l'uomo vive, che si sistemano e geograficamente, anche socialmente, anche storicamente in maniera diversa e quindi che influenzano e sono influenzate dall'uomo, ecco. Il centro è sempre la vicenda umana, insomma. Più che vicenda umana è una parola molto grossa, gli affari quotidiani dell'uomo. Benissimo, ringraziamo Guccini per questa introduzione, ci ha già detto che le sue poesie messe in musica sono soprattutto da ascoltare, ascoltiamolo per tanto. Va bene, grazie.